Dopo la fiera del tartuffo e dell'olio nuovo, il comune di Vallefoglia cala un altro asso sul tappeto verde delle manifestazioni e lancia la prima edizione del Festival dell'amore, del benessere e della felicità. Presentato questa mattina da sindaco ed assessori, il festival in programma per il weekend del 14, 15 e 16 febbraio in località Le Cento Vetrine di Morciola di Vallefoglia avrà come tema generale l'amore declinato in tutte le sue possibili sfaccettature con l'obiettivo di aprire una fase di riflessione circa il futuro del nostro pianeta a cominciare dall'amore per il proprio territorio e la sostenibilità ambientale fino a toccare quello per il lavoro, lo studio e la solidarietà verso il prossimo. L'idea è anche quella di rendere protagonista una nuova generazione di ragazzi di farli occupare sempre più del loro futuro, dell'ambiente, del lavoro dell'amore per le persone più grandi, per la natura, per gli animali, per tutto quello che può essere è l'opposto di chi invece pensa che bisogna realizzare l'odio, le controposizioni attraverso le quali non si va assolutamente da nessuna parte. Quindi tre giorni di eventi, di dibattito, mattino, pomeriggio con le scuole, tre giorni di musica rivolto prevalentemente ai giovani e all'attività commerciale. Nonostante cada nel periodo dedicato agli innamorati, questo festival non ha la declinazione che il titolo può far pensare. L'obiettivo è più ambizioso e proiettato verso il futuro almeno nelle intenzioni degli organizzatori. Non ha nulla a che fare con la festa di San Valentino ma è un amore per le cose che ci rendono felici che ci fanno stare bene, l'amore per la vita, l'amore per la terra, per il territorio, per i nostri valori che sono l'istruzione, il lavoro, quindi ha una connotazione molto diversa, l'amore vista da altri punti di vista. Attraverso queste nuove manifestazioni il Comune di Vallefoglia ha intenzione anche di creare un palinsesto di eventi che abbracci tutto l'arco dell'anno e che non si concentri solo nella bella stagione ma allunghi il passo per tutti i mesi dell'anno. In più questa iniziativa sull'amore ha l'intenzione di coinvolgere tanti giovani del Comune di Vallefoglia e dei territori limitrofi.